Non l'ha fatto perché è cattivo, è fatto così. C'è una disgregazione del soggetto che gli imperisce di fare scelte. La vocazione supponeva un igno, ben preciso. Oggi un giovane non si vuole impegnare più manco in un programma televisivo, con lo zapping, passa da un canale all'altro perché non è nemmeno sicuro di voler vedere quel programma. E dice vediamo che fanno nel programma accanto, vediamo che fanno nel programma accanto, siccome i programmi sono diventati centinaia, alla fine della serata non ha visto niente, ma perché è diventato perfino difficile dire io vedo questo. È diventato una società così opulenta, così ricca di messaggi, di prospettive, che si ha sempre l'impressione di perdere qualche cosa. figurarsi se una si fa suona, figurarsi se una si fa prete, figurarsi se una si sposa. Come faccio a sposare? Una ragazza, mia malunna, molto seria, molto intelligente e seria, sottolineo la serietà. Una volta mi confidava, professore, io voglio bene al mio ragazzo, ma certe volte mi chiedo, forse potrei trovare di meglio. Non è la prospettiva migliore per un rapporto, questa è una logica da mercato, ma è la logica del mercato che ci impone oggi la cultura di oggi. Allora noi dobbiamo sapere che abbiamo a che fare con questo tipo di io, un tipo di io che però non dobbiamo demonizzare, perché uno potrebbe dire che è disastro, ma i Don Camille e i Peppone di un tempo erano frutto anche di una profonda forza pura che eliminava la molteplicità di prospettive, di esigenze che c'erano dentro una persona. Lo dicevo a Roma, voi che siete donne, per la grande maggioranza, siete state le prime vittime di questo nella storia. Una donna che volesse fare l'attrice, la pittrice, l'esploratrice, ci mi piacerebbe esplorare il polo nord. Veniva chiusa in manicomio, perché ma tu sei una donna, c'è un'immagine di te, tu hai un nino, che è quello di una donna. E tu quindi devi fare la madre, la sposa, devi cucinare per tuo marito, provergli bene. Guardate, valori, valori, ma che mutilavano la ricchezza di prospettive. Ci sarà una ragione per cui queste donne raramente sono state poetesse, filosofe, esploratrici. Oggi c'è una fioritura di queste cose, però che si accompagna al fatto che stiamo riscoprendo che in ogni essere umano c'è una moteticità. Che non vuol dire che non si è portata alla maternità, ma ci sono tante cose dentro un soggetto umano. Noi in passato queste cose le sfogavamo nel carnevale. Nel carnevale ci si mascherava e si poteva fare qualunque cosa, si usciva dai ruoli. Era l'antistruttura, ma era una volta l'anno e poi c'era la quaresima per pentirsene. Ma questa era la logica. Ma noi oggi abbiamo cercato di trasformare il carnevale in una considerazione culturale e antropologica più interessante. E c'è che ognuno di noi ha tanti volti. Il problema è come conciliare le due cose. Io credo che un'educazione degna di questo nome deve prendere come modello la Trinità, dove sono uno e tre. Anche nella Trinità c'è l'amore della varietà. Dio ama essere diverso. È diverso in sé stesso. Ed è contento di esserlo. Però è uno. Allora recuperare una dimensione educativa che non sorvoli le diversità, le esperienze varie, le esigenze anche più peregrine, che non dica ma queste sono sciocchezze, tu devi camminare su una pista ben chiara, ben precisa. Questo andava bene per il contadino, ma non per il pescatore. E nemmeno per il pastore. Il pastore deve seguire la pecora dove la pecora va. Però deve riuscire a ricondurla all'ovine. Cioè, non annullando la strada, non annullando la diversità, ma cercando di ricomporla in una unità. E qui ci sarebbe da dire molto, ma non ho il tempo di farlo, sulla parola logos, che è il nome che Giovanni dà al Cristo, che in greco viene da lego, che vuol dire sì, dico, parlo, ragiono, ma significa anche raccolgo in unità cose diverse. Senza fonderle in unità. Un significato simile a quello italiano. L'ego in greco vuol dire quello che la parola italiana, l'ego, il verbo italiano l'ego, al presente dice unire, unisco. L'ego significa non fondo, ma, ecco, collego. Ebbene, questa è una prima pista con cui bisogna lavorare. La riscoperta dell'essere da. Noi viviamo in una società dove non ci sono più origini. La gente crede di farsi da sé. Ma questo è disastroso, si vive nel presente. Il passato non sembra non esserci più. La tradizione. L'autorità, che è un modo di generare. L'autorità è una forma di generazione. La società senza tradizione è una società senza autorità. Perché l'autorità era il padre, il maestro, portatore di una tradizione che ti generava. E questo aveva la sua... È molto diverso dal potere. Noi confondiamo autorità e potere, ma l'autorità e il potere sono delle cose completamente diverse. Il potere è una coercizione. L'autorità è un'origine. Viene da augere autoritas. Augere significa far nascere, far crescere. Da dove viene autor, anche. L'autorità non è che uno è capace di imporre la sua volontà su di te. È uno che ti fa nascere. È uno che ti fa crescere. O che fa crescere la tua comunità. Riscoprire questo, oggi, significa lottare contro una cultura che non ha più tradizione, non ha più autorità, non ha più padre, non ha più maestri. Però, apprezzarne anche la positività. Perché questa cultura del padre era la cultura in cui si valeva per la famiglia a cui si apparteneva. Era figlio di una famiglia nobile e andava bene. Era figlio di una famiglia prebea e non andava bene. Era una storia in cui la tradizione spesso soffocava la creatività verso il futuro. Dobbiamo valorizzare tutto questo, non distruggerlo. Recuperare un rapporto di padre e di maestro, un rapporto di autorità, che sia capace di non cadere nell'autoritarismo e di dare spazio alla reciprocità. Quando io andavo a scuola non si poteva discutere col professore. Io ho ispirato l'insegnamento al fatto che la mia autorità si fondasse sulla possibilità degli alunni di confrontarsi con me, di dirmi liberamente quello che pensavano, anche le loro critiche, e che proprio per questo io ero ai loro occhi degno del nome di autorità. Che poi è dire che l'autorità va riempita con un'autorevolezza che è il suo contenuto vitale, al di là della forma strutturale autorità che viene dall'istituzione, per cui si è autorevoli e quindi degni di esercitare l'autorità, se si sa dialogare con gli altri, se si sa cambiare, se ci si lascia educare anche dagli altri. La persona che dice qui comando io ha chiuso, ha chiuso, non è l'autorità, ha finito, non avrà nessun riconoscimento, perché l'autorità, a differenza del potere, esige il riconoscimento. Io non posso essere un'autorità se non vengo riconosciuto, mentre posso avere un potere, lo stupratore o il rapitore hanno un potere senza riconoscimento, ma l'autorità no. Infine, me ne restano ancora due, rapidamente l'essere comune. Noi siamo in una società dove l'individuo spesso autorreferenziamo, pensiamo di farci i fatti nostri, ma io sottolineo che i fatti miei non esistono, si è capito solo per il fumo, soltanto per le sigarette, si è capito che uno che fuma 40 sigarette al giorno e viene gentilmente invitato dalla gente che è nel suo ufficio a lasciare. E quanto ancora? Tre minuti? Due minuti? Un minuto? E no, perché mi interessava a finire alcune cose e poi le possiamo approfondire. Non voglio però esercitare un potere, vorrei che fosse un'autorità. Quindi mi vorrei assicurare che sia un'autorità e non un potere. Dicevo, nel momento in cui noi facciamo i fatti miei, dimentichiamo, come il fumatore che fuma 40 sigarette, che il problema non riguarda mai solo noi, le nostre scelte non riguardano mai solo noi. Si è capito solo per il fumo, dicevo, ma è strano che si sia capito solo per il fumo. Perché veramente fa più danno una persona che fuma in classe di una persona demotivata, che non insegna le cose con piacere, di un genitore sbandato, smarrito, che non riesce a comunicare niente ai suoi figli. Un genitore che fuma fa più danno, veramente, di un genitore che se ne va con la collega a vivere, o di un genitore che non ha alcuna autorevolezza educativa perché è lui stesso, pieno di falle, di incoerenze. Oggi i giovani non contestano più, ma la mia ipotesi è che non contestano più gli adulti perché gli adulti gli fanno pena, perché gli adulti sono così smarriti, così confusi. Ma chi glielo dice a questi genitori che sono un disastro? Già lo sanno loro di essere un disastro. Evitiamo di aggravare la situazione. Ho avuto alunni venuti a dire il professore, devo parlare con un adulto, mio padre è un immaturo, fai un notario, ma è un immaturo. È una persona che non è a zecca una nella vita. Che vi devo dire? È così, è così per molte cose. E allora, ecco, veramente fa più male un medico che fuma, di un medico che non si è preparato bene, e poi in sala operatoria sbaglia l'operazione perché non ha studiato seriamente ed è andato avanti con le raccomandazioni. Io credo che chiunque di noi in sala operatoria preferrebbe un medico che fuma e non un medico che dice io veramente questa parte del manuale non l'ho studiata, perché ero raccomandato e mi hanno promosso comunque. Guardi, si accende una sigaretta, veda se le tocca la memoria, perché qua il problema è serio. E allora, ecco, riscoprire che non ci sono i fatti nostri, quanto individualismo, badate anche nelle nostre comunità cristiane. Ieri parlavo a Sant'Angelo dei Lombardi e ridevano perché era la verità, lo sapevano anche loro. Ogni parroco che è vescovo della sua parrocchia, ogni vescovo che dice questa è la mia diocesi, ma nessuno dice le cose che pensi. I parrocchiani non le dicono al parroco, il parroco non le dice al vescovo, il parroco non gli dice al vescovo quello che pensa, ma anche i parrocchiani non dicono al parroco quello che pensano di lui. Nessuno dice la verità, il vescovo non dice la verità manco lui quando parla con il cardinale Bagnasca e quando è in assemblea della CEI, ve lo dico io che all'assemblea CEI ci sono stati invitati tre volte come esperto, sono là ingessati, poi parlate individualmente, dicono ma chi è che là può dire il suo vero pensiero? E questa è la situazione. E allora uscire da questa logica individualista, e qui voi dovete pure pensare alle vostre comunità, io non le conosco, ma è meglio che ci pensiate perché sono sicuro che i problemi esistono. Ultima cosa, e poi finito, la ridettura dell'essere per. Ecco, allora lì l'individualismo come si sana? Recuperando però il fatto, scusate prima dell'essere per, devo finire per il discorso, mi dimenticavo di finirlo, è recuperare che le vere comunità però esigono una riscoperta del simbolo. Prima la comunità era un blocco monolitico, la famiglia, lo Stato, recuperare l'autenticità dei simboli. Non si tratta più di esercitare l'autorità dentro la comunità come se il simbolo fosse a disposizione un oggetto. Il figlio va valorizzato nella sua autenticità. Allora, il farsi i fatti propri no, ma il riscoprire il valore, i limiti di un blocco monolitico che faceva dell'essere con una specie di monolite, no, questo non andava bene neanche. Dobbiamo riscoprire un essere con che valorizzi la relazionalità a partire dall'autenticità delle persone. Non è facile, sono progetti, ma progetti che ci vengono suggeriti dal clima culturale in cui viviamo. E infine la riscruttura dell'essere per. Noi viviamo in una società che spesso è autoreferente, fatta di persone che non hanno più un senso nella vita, non hanno più grandi progetti. Prima si moriva per una causa, oggi non si muore più. Prima c'era in lettere dei condannati a morte della resistenza che dicevano mamma io ho vent'anni, sto morendo, però mi sono battuto per una cosa in cui credevo. Oggi i nostri giovani non credono più di potersi battere per niente. O meglio, ecco, c'è un valore però che è stato affiorato, il valore dell'autorealizzazione. Nell'attimo fuggente il ragazzo, chi l'avrete visto sicuramente perché è un film molto noto, il ragazzo in una cosa ci crede nella sua autorealizzazione come attore e si suicida non per una grande causa, si suicida per questo. Però anche l'autorealizzazione è un valore perché il tempo delle grandi cause era il tempo in cui i giovani venivano andati in guerra sulla scia dell'onda entusiastica dell'ideale della patria e poi scoprivano, vedi all'uomo e stondite di nuovo, che la guerra era una cosa tremenda e che loro erano stati usati come tira avversario per questa guerra. Allora c'è un valore nell'autorealizzazione, non dobbiamo anche qui demonizzare quello che c'è di nuovo, però dobbiamo imparare a correggerlo. Come per i fatti miei, sì, riscoprire l'autenticità, ma riscoprire sempre la relazionalità. Come per l'essere d'a, sì, riscoprire che tu non dipendi dalla tua famiglia e dal tuo passato, devono paralizzare, però devi tenerne conto. Come per l'essere, sì, la motelicità, però devi trovare un'unità. Così per l'essere per. Non puoi basarti solo sull'autorealizzazione, perché l'autorealizzazione è una trappola se tu la assolutizzi, perché non risponde alla verità delle cose. Vedete, sul piano culturale, oggi noi se chiediamo a un giovane perché ti vuoi fare il medico, lui o lei ti dice perché mi voglio realizzare. È l'unico obiettivo, ma questo è un obiettivo fallace, destinato a contraddirsi. Perché? Perché non corrisponde alla realtà delle cose. La medicina non è stata inventata perché i medici si realizzino. Se voi andate dal dentista non ci andate dicendo il dottore, lei ha un'ottima occasione di realizzarsi, ho una carie meravigliosa che sicuramente la entusiasmerà. Il medico è là per curare la vostra carie, non per realizzarsi lui. È così il professore. E' là per parlare a ragazzi che potrebbero anche chiedergli di abbassare molto il livello del discorso culturale per farsi capire da loro. Perché loro non capiscono certe volte. E il professore è innamorato solo di realizzarsi lui. Dice, ma questi sono stupidi, sono ragazzi che non valgono nulla. Non è che loro non valgono nulla. E anche tu sei bravo, ma non hai capito che per fare il professore bisogna parlare a dei ragazzi adattandosi a loro, non adattando loro a te. L'autorealizzazione è preoccupante. Non bisogna eliminarla. Recuperiamola l'autorealizzazione. È giusto questo. Però l'autorealizzazione deve essere sempre legata e in funzione di un servizio, di una missione che si sta svolgendo. Don Mosè non fu mandato in Egitto per realizzarsi. Fu mandato in Egitto per salvare gli ebrei. La missione e poi alla fine questo diventa autorealizzazione. Questo va dato a delle ricadute fortissime oggi sulla vita cristiana, sulla vita religiosa. Io ho visto tanti giovani sacerdoti, tanti giovani religiosi e religiose passare il tempo a lambiccarsi il cervello se si stavano realizzando. Ma questo non è il problema. È come se il Mosè avesse detto ma io mi sto realizzando andando in Egitto ma tu sei stato mandato, sei stato chiamato per andare, non per chiedere se ti stai realizzando. Quando dimenticandoti ti sarai dato poi scoprirai che ti sei realizzato in sostanza. Ma proprio perché non te lo sei chiesto troppo perché se uno se lo chiede troppo e punta troppo su questo finisce con l'essere un cattivo medico, un cattivo professore, finisce con l'essere un cattivo religioso, un cattivo prete perché non ha più la capacità di guardare avanti e ripiega su se stesso lo sguardo. Allora, educare a percepire il valore dell'autorealizzazione deve essere una molla importante nell'educazione. Dire guarda che tu ti vuoi realizzare ma se tu non fai questo cammino non ti realizzerai mai. Però anche fare vedere i valori positivi in funzione dei quali ci si può realizzare. Se no l'autorealizzazione diventa un'autoreferenzialità che ripiega su noi stessi. Io credo di avere detto già troppe cose e quindi vi ringrazio intanto di avermi ascoltato che se non è la discussione poi farò emergere le altre cose che volevo dire. Grazie. Grazie.